Eccoci qui, benvenuti a tutti, siamo insieme a Silvia per una nuova passeggiata insieme a Beyond Fortune. Silvia in questo momento si trova in uno dei posti più magici di Gunstonbury, ne abbiamo parlato in un episodio precedente, una puntata precedente e la visuale che vedo io è veramente mozzafiato. Silvia ci sei? Ciao Alessio, sì ci sono, siamo quindi a Labby di Gunstonbury questa mattina, sì non è solo la visuale mozzafiato ma anche le vibrazioni forti che si sentono soprattutto in questo posto dove Beyond Fortune veniva a meditare e a connettersi con Merlino, dove è iniziata la strada, il sentiero della magia arturiana per lei. Ed è proprio di Beyond Fortune che vogliamo parlare questa mattina, quale location migliore per raccontare qualcosa sulla sua vita. E quindi ho di nuovo qualche piccola domanda da porti, la prima cosa che vorrei chiederti è che cosa ha rappresentato secondo te Beyond Fortune nel secolo in cui è vissuta, nell'epoca in cui è vissuta. Dunque sì, allora Beyond Fortune non è stata soltanto un'iniziata, una detta, il canale di un nuovo eone o qualsivoglia un'esperta della Western Mystery Tradition. Secondo me quello che dico sempre è lei è stata una grande donna, una grande donna prima di tutto con una volontà incredibile che nasceva dal suo sé superiore ed è riuscita a ricongiungere il sé superiore completamente al sé inferiore e a fare di questo un sentiero. Questo è la cosa più importante. Lei è conosciuta in quanto esoterista, in quanto esperta di, ma a mio avviso la cosa più importante è questa, ecco. Bellissimo, una donna avanti per il suo tempo, per la sua epoca. Com'è stata la sua infanzia, la sua giovinezza? Ecco, dunque lei intanto il suo nome era Violet Mary Furt e è nata a Landluno, scusate non riesco mai a pronunciarlo, Landluno, in test è un nome piuttosto particolare. La doppia L, Landluno. Esatto, esatto. Dall'unione tra due persone anch'esse eccezionali, quindi si parla di sua mamma e suo papà, Arthur Furt e Sarah Jane. Lei è nata il 6 dicembre 1890, alle prime ore dell'alba. Dunque già da subito, dalla prima infanzia, lei ricordò chiaramente quali erano, quali sono state le sue vite precedenti, nonché in primis la sua vita ad Atlantide come sacerdotessa. Quindi mostrò ai suoi genitori un grande talento, diciamo, per quello che erano le percezioni, l'allacciamento all'astrale, il ricordo delle sue vite precedenti. Devo dire che i suoi genitori sono stati molto aperti in questo, hanno creduto in lei e l'hanno sempre incoraggiata a continuare. Detto questo, c'è stato un momento in cui, come tutti gli adolescenti, si sa, si ha un po' di, come dire, disequilibrio, diciamo così. O di assestamento, una delle due. Sì, assestamento, esatto. Le energie sono grandi in adolescenza, per cui Dion Fortune ricercò se stessa all'esterno e non all'interno, come aveva fatto nella sua prima infanzia. Quindi, dato che si interessava alla natura e in primis alle qualità della natura, all'energia delle erbe e a quello che poteva essere l'equivalenza della nostra trasmutazione alchemica, benché lei non la chiamasse così, poiché appunto era proprio piccola all'epoca, si avvicinò ad un lavoro di giardinaggio, come giardiniera, in un college. Ecco qui, diciamo che fu un po' una brutta esperienza, in quanto il direttore di questo college l'attaccò, l'attaccò etericamente, quindi si tratta proprio di quegli attacchi psichici di cui ha parlato Dion Fortune nel suo libro, ovviamente che ha scritto in futuro, e da qui Dion Fortune, ossia Violet, ne uscì veramente massacrata, quindi con un disequilibrio incredibile. Sì, ecco, è famoso questo attacco magico che c'è stato al college, infatti mi ero segnato di chiederti quali sarebbero, quali sono state poi le sue reazioni, perché immagino che sia stato anche un episodio che ha segnato la sua crescita, come donna sicuramente, ma anche come sentita. Assolutamente sì, infatti lei ne uscì, come dicevo prima, non solo turbata, ma in completo disequilibrio su tutti i piani fisico, psichico e astrale, e chiese ai suoi genitori di poter rimanere con loro il tempo che le serviva per ripristinare il suo equilibrio. In quel periodo di tempo lei sentì molto il suo potere interiore, ma la sua volontà di andare oltre, oltre quest'attacco che l'aveva turbata e segnata, e per quanto fosse possibile all'epoca si interessò all'argomento, all'argomento dell'occulto e alla psicologia. Con questo lei a questo punto decise di iscriversi, proprio tra virgolette grazie a quest'attacco, alla facoltà di psicologia di Londra, per cui si laureò in brevissimo tempo e a 23 anni lei fu uno dei migliori e ben pagati annullisti di Londra, quindi questo le è servito per iniziare il suo sentiero. Però questo non bastò, perché lei sentiva che i suoi pazienti, le persone che avevano bisogno di lei come psicoanalista, tornavano, guarivano momentaneamente e poi tornavano con gli stessi disequilibri. Quindi lei si chiese, no, la psicologia non può bastare, non è abbastanza, cosa posso fare di più per i miei pazienti? E iniziò ad interessarsi all'occultismo vero e proprio, quindi alla scienza esoterica. Lì incontrò la società teosofica, partecipò ad alcune conferenze che ci furono nella sua clinica e riconobbe a quel punto la sua capacità, la capacità delle proprie essenze, attraverso ovviamente i piani interiori, di ricondurre quello che è l'energia in disequilibrio, in equilibrio anche su altri piani. Cioè, ossia sul piano fisico va bene essere curati da un medico, sul piano mentale e ottimo lo psicologo, ma ci va qualcosa in più. Quindi bisogna completare il cerchio con la scienza esoterica, questo per quello che riguarda Dion Fortune, il suo pensiero ovviamente. Diventa spontanea la domanda successiva. Tutto questo approccio è un qualcosa che lei ha inventato completamente, ha generato completamente da sola o ha avuto qualche insegnante, qualche maestro? Allora, sì, Dion Fortune ebbe parecchi maestri, uno dei quali il più importante per lei e il più famoso quello che generò in lei la volontà di iniziare poi sul suo sentiero è Moriarty, di cui poi in futuro lei scriverà addirittura un libro. Moriarty la incontrò nel 1917 ed era, fu considerato subito da Dion Fortune una persona meravigliosa, spettacolare sotto il suo punto di vista e posso dire, posso aggiungere anche sotto il mio? Moriarty era per definizione un mago solitario, una di quelle persone che è un grande studioso di occultismo e di quelle persone che però percepiva, anche non era soltanto studioso, ma lavorava e percepiva con le energie sottili. Dunque lui curava, se posso usare questo termine, attraverso la visione delle vite passate, quindi essenzialmente sciogliendo i nodi che la persona aveva lasciato insoluti nelle vite passate e si interessava di trasmutazione delle frequenze a secondo del comportamento del luogo della persona, del luogo dove vive la persona. Insomma Dion Fortune era entusiasta di questa persona e lo seguì e fu veramente il suo maestro. Non solo, come dicevo prima, disponeva di una grande sapienza, ma lui era la sapienza, quindi era veramente una cosa molto grande per Dion Fortune che l'ha aiutata poi nel suo sentiero ad andare verso la pratica più che la teoria, quindi a studiare la teoria attraverso la pratica. E infatti ti volevo chiedere... Un altro maestro, un altro, diciamo, strano... Scusa, ti volevo chiedere un secondo, però mi sa che lo hai appena confermato, che stiamo parlando del personaggio dei misteri del dottor Taverner, di quelli che lei ha poi trasformato in quel protagonista di quel libro, giusto? Allora sì, esattamente lui, esattamente lui. Dunque, devo dire che andando oltre, quindi Dion Fortune è rimasta allieva del, come hai detto giustamente tu, del dottor Taverner, che non è nient'altro che Moriarty, e intanto incontrò alcune persone per cui aveva delle amicizie in comuni, che la condussero a conoscere la Golden Dawn. Al periodo, la Golden Dawn era una delle più famosi, diciamo, dei più famosi ordini occulti, e Violet, nonché Dion Fortune, fu condotta all'ordine da Mahia. Mahia fu non solo la sua tutor in futuro, ma anche la sua più grande amica e sorella, con cui appunto aprì poi il suo ordine, decise di iniziare nel suo ordine. Durante la prima iniziazione alla Golden Dawn, Dion Fortune sentì percepì forte che la sua aura era tornata a posto, tornata in equilibrio dopo quel famoso attacco nella sua adolescenza. Quindi fu contentissima. Il suo nome iniziatico divenne appunto Deo Non Fortuna, e si tramutò poi in abbreviazione in Dion Fortune. Questo è stato per Dion Fortune un periodo veramente molto bello, molto intenso, che segnò appunto non solo la sua esistenza, ma anche il suo futuro. Il periodo all'interno della Golden Dawn è stato per Dion Fortune il punto in cui ha strutturato il suo percorso iniziatico, forse prendendo proprio ispirazione dalle strutture in cui lei stessa era entrata. Esattamente, è proprio così. Lei si è ispirata molto a quello che è la formazione della Golden Dawn, anche se poi in futuro, devo dire, ha un po', ha cambiato, diciamo, linea di molti rituali che in fase iniziale sono molto simili, mentre poi in fase strutturale sono definiti per quello che era il suo pensiero. Quindi ha creato poi un suo pensiero proprio, ecco. Dunque, ci sono state molte cose sia positive che negative in Golden Dawn. Una di queste, appunto, ora ho parlato delle cose positive, le cose negative furono l'incontro con Moina Matters, che era, diciamo, moglie di uno dei fondatori dell'Orde, McGregor Matters, e accusò ad un certo punto Dion Fortune, dopo che lei ha scritto un libro, tra l'altro molto famoso, che è la filosofia esoterica dell'amore del matrimonio, accusò appunto Dion Fortune di aver svelato al pubblico dei segreti del secondo ordine. Dion Fortune rispose a Moina Matters che questo non era assolutamente così, intanto perché lei non avrebbe mai osato trasgredire nessun segreto posto dal giuramento dell'Ordine, e in seconda linea è proprio perché lei non era ancora in second order, per cui non poteva sapere questo tipo di cosa. La verità era che Dion Fortune in quel periodo aveva lavorato parecchio sulla polarità ed erano venuti fuori, appunto aveva, come dicevo prima, lei lavorando risaliva alla teoria, quindi dalle operazioni compiute lei è risalita allo studio della polarità, ma era un suo corso personale, un suo personale progresso. Quindi Moina Matters chiese a lei, chiese a Dion Fortune di ritirare dal commercio questo libro. Non solo lei non lo fece, poiché sappiamo che era un grande guerriero, in questo caso un guerriero in senso della giustizia, ma scrisse subito dopo un libro che intitolò Occultismo sano, proprio per, diciamo, sottolineare quello che erano purtroppo le egregore, e più che le egregore le persone che, alcune persone, che non lavoravano propriamente, diciamo, per la giustizia. Ecco, quindi questo attacco fu per lei un tratto molto bello avere... Mi senti? Sì, sì, ti sento benissimo. Stavo dicendo che è molto bello avere questa... Questo contesto storico, no? Perché magari uno legge il libro, quello sul... Il primo libro del matrimonio, delle tecniche energetiche legate agli aspetti più fisici, e poi dopo ti legge Occultismo sano e sta a contestualizzarli, no? Sta a che cosa è arrivato prima, cosa è arrivato dopo, e perché uno è la risposta dell'altro. Esatto, esatto. Diciamo che questo per Leon Fortune fu un trampolino di lancio per lavorare, ovviamente, al nuovo progetto in cui lei credeva fermamente, ecco, e per proseguire sul sentiero della giustizia. Quindi, a questo proposito, lei incontrò un'altra importantissima figura per lei, che fu Charles Thomas Lothday, che, come abbiamo detto nell'altro video, incontrò appunto nel 1922 a Cialisueli in una notte di luna piena, e da subito nacque non solo una grande amicizia, ma una grande intesa, e lui fu uno dei fondatori, insieme a lei, proprio del suo nuovo ordine, nel 1924, insieme a Mahia. Quindi i loro tre erano, diciamo, la catena di lancio, ecco, per questo nuovo, nuova impresa, nuovo sentiero in cui credevano fermamente. Questo, in linea di massima, poi ci sarebbe da parlare per ore, ecco. Certo. Quindi abbiamo citato Moriarty come suo maestro, e poi Charles e Mahia come due persone che sono state importantissime all'interno della vita e della crescita di Dion Fortune, persone che di solito non vengono mai ricordate, mentre sono state importantissime per la sua vita e la sua crescita. Esatto. Tra l'altro Dion Fortune è stata seppellita, ossia Charles Lothday è stato seppellito a proprio due passi, un paio di metri da Dion Fortune. è una cosa incredibile come siano sempre stati insieme, da lì in poi, ecco. Benissimo. E li abbiamo citati tutti? Sono loro le persone importanti nella crescita di Dion Fortune o non c'è qualcun altro? Ma diciamo che in linea di massima sono loro. C'è anche un'altra persona, un'altra persona che, anche essi importante, anche lui entrò poi a far parte dell'ordine insieme a Dion Fortune, soprannominato Merlino dai suoi amici. Allora, questa persona, Dion Fortune, la conobbe durante una conferenza, chiamiamola così, un incontro, che faceva a casa sua, un incontro ovviamente per pochi, a London e nel suo tempio. Ecco, lui era Thomas Perry Evans. In poco tempo si stabilì anche lì un grande feeling e posso dire che con lui Dion Fortune ebbe un riscontro di operazioni in polarità veramente molto alti. quindi il lavoro occulto e il lavoro in polarità, che poi alla fine sono sulla stessa linea d'onda, ecco, fu reso veramente, diciamo, proprio, ecco, in quell'asso di tempo. Thomas Perry Evans diventò il marito di Dion Fortune in quanto Dion Fortune, esatto, in poco tempo, in quanto Dion Fortune credeva che se una persona lavora effettivamente bene in polarità con un'altra, è bene che condivida anche parte della sua vita. Quindi, ovviamente, diventarono marito e moglie non solo perché, come diceva, Dion Fortune lavoravano bene, ma anche perché sappiamo in che periodo storico si sono svolti i fatti per cui permettere a tacere le persone che parlavano dati i loro incontri diciamo tutti i giorni, di tutti i giorni, hanno preferito appunto diciamo ufficializzare questo questo tipo di cosa. Per permettere a tacere le male lingue, insomma. Diciamo così, esatto, in poche parole è questo. Diciamo che il suo lavoro insieme a suo marito durò per molti anni, fino al 1939, anno in cui Thomas la lasciò per un'altra relazione. Non è tanto questo il fatto che mandò in crisi di un forcio quanto che Thomas era entrato in tutto e per tutto a far parte dell'ordine ed era un grande perno, un grande punto importante che costituiva appunto l'anima del gruppo, la mente di gruppo. Una volta che Thomas uscì dalla vita di John Fortune, ma non solo, uscì completamente anche dal gruppo, tra l'altro portando via del lavoro fatto insieme a John Fortune, questo fu un grande colpo, un grande colpo per John Fortune. E qui iniziò ovviamente un periodo diciamo di calo, di discesa. Quindi c'è stato un periodo nell'evoluzione spirituale e non solo, forse anche nel lavoro esoterico e occulto di John Fortune che è andato in down diciamo per via della separazione emotiva e sentimentale da Thomas? Assolutamente sì, il suo feeling era quello di essere tra virgolette nuda di fronte all'umanità nel senso che non si sentiva più protetta nelle sue operazioni in quanto Thomas così come Charles erano coloro che avevano appunto l'intenzione, la volontà di protezione nel lavoro di gruppo e essendo andato via Thomas di John Fortune ebbe una brutta ricaduta questo come ripeto in parallelo al fatto che lui portò via molti dei lavori fatti insieme e li condivise con questa nuova relazione con questa nuova donna insomma della sua relazione combinando anche lì un bel pasticcio ecco tanto per non andare oltre va bene ci sarebbero come tu stessi dicevi un sacco di cose da dire però io vorrei ancora toccare un settore molto importante della vita biografica di John Fortune che è la seconda guerra mondiale e tutto quello che concerne la battaglia magica esatto hai detto bene fu un periodo veramente molto importante in quanto la frequenza dell'umanità era assolutamente cambiata e ci si ritrovava in mezzo a una guerra non soltanto di ordine fisico ma soprattutto di ordine psichico tra le forze naziste e le forze ovviamente opposte John Fortune si portava ancora dietro il dolore di questa separazione ma non da se stessa come dicevo prima più che altro dal gruppo di Thomas e quindi tentò di rimanere in equilibrio per mantenere la frequenza dato che i giornali lei aveva un giornale interno all'ordine ma anche i libri così come i libri non erano più reperibili in quanto la carta durante la guerra veniva a mancare non solo le persone non potevano più spostarsi quindi lei non poteva più raggiungere Glastonbury come faceva tutti i fine settimane per fermarsi anche più tempo durante l'estate o durante le vacanze e quindi le risonanze il magnetismo e le frequenze calarono veramente tanto ma John Fortune come abbiamo detto prima era una donna con la D maiuscola quindi prese in mano tutte le risorse che ancora aveva e tentò di fare qualcosa di alternativo quindi scrisse lettere scrisse lettere a tutti a questo punto aprì l'ordine anche agli esterni nel senso che gli esercizi base le meditazioni gli allacciamenti i primi rituali lei li condivise con le persone interessate che sentì avere una frequenza diciamo sul sentiero ovviamente non potendosi incontrare come dicevo prima né fare incontri pubblici iniziò a scrivere queste lettere che magnetizzò magnetizzò con un simbolo per innalzare la frequenza dell'umanità queste lettere arrivarono a destinazione si creò un bel gruppo un grande gruppo di persone che collaborarono alla battaglia magica d'Inghilterra e qui a Glastonbury gli anziani del posto dicono ancora oggi che se l'Inghilterra è salva è grazie alla battaglia magica questo risuona veramente alta nel mio cuore credo nel cuore di tutti coloro che credono ovviamente a questo tipo di cosa insomma beh basta leggere il libro che è la raccolta epistolare di tutte le lettere che sono state scritte per capire la quantità di lavoro magico che è stato fatto in quel periodo lì cioè è una roba non so un'operazione veramente importante imponente sì imponente e meravigliosa insomma considerando il fatto che al di fuori della sua abitazione c'erano le bombe che esplodevano tutti i giorni ecco questo non dobbiamo dimenticarlo io sono andata a ricercare delle foto di London in quel periodo era incredibile così come in tutto il mondo alla fine tra l'altro Queensbrook Terrace dove lei aveva il tempio la sua abitazione fu bombardata quindi lei fu costretta a scappare via veloce prendendo i pochi documenti che poteva portare con lei e si trasferì a pochi numeri di distanza sempre di Queensbrook Terrace nel frattempo suo marito Thomas andò a cercarla come altri suoi fratelli e sorelle sapendo che fu bombardata proprio la sua abitazione ma non la trovarono e quindi nacque nacquero dei sensi di colpa nei confronti soprattutto di Thomas che l'aveva lasciata ecco per così dire con con tutti i suoi bagagli ecco e quindi insomma non fu un periodo bellissimo ecco nonostante questo però devo dire che lei ebbe una volontà incredibile e non so neanche definirlo a parole insomma spero possiate sentirlo lo stesso oltre alle parole assolutamente sì spesso quando si affrontano argomenti e connessioni così profonde così importanti manca il contesto uno legge la cabala mistica e non sa che quel testo lì però è uno di quei testi dove che è stato scritto mentre magari qualcuno scappava da un bombardamento cioè adesso magari non proprio quello però avere il contesto del di un'opera e in generale immagino che aver vissuto tutte le complicazioni della seconda guerra mondiale abbia dato alla psiche di un corso una una botta non indifferente un corso non indifferente sì assolutamente assolutamente è stato così quindi forse il suo equilibrio come dire il suo equilibrio psicofisico è iniziato un po' a cedere a decadere da quel momento in avanti diciamo di sì diciamo che il suo equilibrio psicofisico vacillo a un certo punto quando la guerra finì lei decise di tornare nella sua amata Glansombury e qui era a questo punto l'equinozio di autunno nella sera del festeggiamento Dion Fortune disse a tutto il suo gruppo che aveva ritrovato quindi erano felicissimi di questo incontro lei disse questo è l'ultimo momento l'ultimo equinozio che io passerò con voi tutti coloro che erano accanto capirono assolutamente la cosa ma non dissero niente non dissero niente e diciamo che il lavoro le operazioni si accelerarono un pochino ecco proprio perché loro sapevano che lei era in corso di ascesa in quella direzione nella direzione del lasciare il suo corpo ecco dunque nell'inverno lei riuscì a tornare a London perché decise più che riuscì decise di tornare a London perché non si sentiva assolutamente bene e sentiva che le sue forze fisiche erano venivano meno allora andò a fare passò un inverno diciamo piuttosto tranquillo e andò a fare degli esami per un dolore dentale nell'inverno subito dopo le vacanze di Natale lì le fu diagnosticata una leucemia acutta e Dion Fortune morì in tre quattro giorni in ospedale diciamo che quello fu un momento piuttosto particolare nel senso che lei sapeva cosa stava facendo scusate sapeva dove stava andando lo fece con grande serenità accogliendo la sua ascesa nel modo in un modo fantastico e parlando con chi lei era accanto dicendole ti sento posso sentire i suoi i tuoi le tue frasi le tue parole di potere che stai vibrando senza usare la voce posso sentire i tuoi movimenti ci troveremo di nuovo e così finì un po' questo che era il suo percorso terreno dell'altro secolo diciamo che chi ha avuto l'onore di vederla e starle vicino tenerle la mano in quel momento ha detto che non era mai stata così bella e che il suo sorriso brillava due tre giorni dopo le sue spoglie da London furono portate a Glastonbury dove ci fu il suo funerale dove tuttora è seppellita sotto la collina scusate nella collina sotto la torre e qui dove la risonanza del suo sentiero prende ancora vita poiché sappiamo che la torre è una terra magica che sa dar vita al sentiero quando è il tempo di farlo insomma volevo solo più dire che ancora oggi le sue memorie valutando quello che era il suo sentiero e la sua volontà così grande ferrea di continuare il suo percorso ci siamo preposti di riportare alla luce e di continuare il sentiero che lei avrebbe voluto ed è quindi nata appunto l'alba della luce interiore così come la chiamava lei perfetto ci hai accompagnato in tutta la vita di Violet Mary Perth che è diventata di dall'inizio della sua manifestazione fino alla sua ultima promessa ed è bellissimo immaginare pensare sapere che questa crescita non è mai finita e non si è mai fermata e continuerà anche adesso con l'alba della luce interiore esattamente vi porto un minuto in giro facendovi vedere in onore di Dion Fortune siamo qua e e porteremo avanti insomma il sentiero che lei ha iniziato quella che vedete al fondo la tor che si vede qua dall'Abi del giardino dell'Abbazia di Glanstonbury e spero di raggiungere al più presto l'Abi così da farvela vedere questo come vedete il giardino è molto bello molto molto grande ma molto risonante delle memorie dell'Abbazia quindi dove lei stessa come dicevamo prima veniva a meditare tutte tutte le sere ed incontrava i grandi maestri disincarnati uno di questi appunto Merlino e qui risuona tutto veramente molto forte le memorie ci sono sono rimaste basta risalirvi e ripercorrere come si diceva prima il sentiero insomma ok ecco adesso dovremmo vedere dovremmo vedere l'Abi tra qualche secondo eccola bellissima come sempre molto molto bella molto bella molto risonante è il silenzio cosmico ha un'energia veramente molto alta che si percepisce è possibile che chiunque la percepisca mi lascio con questa questa inquadratura salutiamoci con questa bella vista esatto un abbraccio a tutti un abbraccio a te e al prossimo video alla prossima ciao